Guarda qua, guarda qua quanta personale ti guarda, ascolta, qua ci possiamo aiutare Dai, ti aiutiamo a risalire Nandone, mi sento, insieme siamo una forza, dai Non facciamo cavolo, guarda che scivoli così, vieni qua, vieni Nandone, guarda noi, Nandone Guarda qua, guarda Non parla di famiglia come te, anch'io sono disoccupato, guarda I problemi si risolvono, i vigili si stanno sistemando giù però I problemi si risolvono, guarda I vigili giù, dovevo mettere una cosa giù, che forse sono andata buttando Giù, giù è il problema, il materasso Senta, non prego Guarda qua, guarda Guarda qua, guarda Ti vogliamo aiutare tutti, ci vogliamo aiutare tutti Giù, ci vogliamo aiutare tutti La Borgio ci la manda, il signor Borgio non la prendiamo noi Guarda, guarda, fanno per me No, 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 che stai facendo, che fai? Aspetta, pigliano, pigliano Andiamo al tribunale insieme Andiamo al tribunale insieme Guarda, ti aiutiamo o no? Guarda, quante persone ci sono Attenzione, fermo, fermo Aldone, guarda Aldone 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 Ti senti? Ti posso chiedere? Ti posso chiedere? Ascolta Aldone Mettiti dietro Vincenzo, mettiti dietro a lui che lo tiene Mettiti dietro a lui, Vincenzo Mettiti dietro a lui Piano, piano Dai, dai, vieni Avanti, vai, vai, prendetelo Bravo, dai Prendetelo, bravo, bravo Sali, sali Ok, va a posto Va a posto Grazie 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 Grazie